Il mercato del Pescara dopo l'ingaggio di Derisio, l'imperativo è sfoltire l'organico. In uscita ci sono tanti giocatori, intanto uno tra il portiere Di Gennaro e il suo omologo, Iacobucci, frascatore che è corteggiato dal Monopoli, Zita, Rizzo, Valdifiori e Galano che sono i casi più spinosi, poi Marilungo, Bocic e forse De Marchi, piace Borello, esterno Mancino classe 1999 che però non è in uscita dal Crotone. Giambo è attenzionato dalla Ternana, piace non poco al DS del club Umbro, il pescarese Luca Leone, possiamo anche guardare la notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito www.reteotto.it, la trattativa potrebbe prendere corpo in questi giorni ma il franco-senegalese lascerebbe il Delfino solo alla termine dell'attuale stagione. 21 anni, il prossimo 12 febbraio, in questo campionato, Amadou Giambo ha collezionato 10 presenze, 5 da titolare, segnato il primo gol tra i professionisti nel match interno con la Pistoiese dello scorso 12 dicembre. Rimbia ha debutato nella trasferta di Benevento 8 marzo 2020, lanciato dalle Grottaglie e poi altre tre presenze con Oddo e Breda. Nel match amichevole contro la Ternana, disputato a Pineto nell'agosto 2020, il franco-senegalese si mise in evidenza, tanto da catturare l'attenzione del DS Umbro, il pescarese Luca Leone che da quel momento ha cominciato a seguirlo con estrema attenzione. Ed ora le notizie sul mercato del Teramo, è ufficiale il ritorno di Lorenzo De Grazia, classe 95, centrocapista classe 95 a titolo definitivo dalla Piacenza, che con la stessa formula si è assicurato le prestazioni del terzino sinistro Rillo. Indirittura ad arrivo la punta ad Andrea dalla Sarnitana, nel mirino il laterale mancino Mignanelli, classe 93, in uscita dall'Avellino, Mignanelli ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in prestito dal club Irpino, cui è legato sino al 30 giugno 2023. Tanta Serie C in carriera per Mignanelli che in questa categoria ha giocato con Propatria, Reggiana, Viterbese, Carrarese, Modena e Avellino nel primo semestre dell'attuale campionato. In B, 51 presenze con l'Ascoli nel bienio 2016-2018, anche a Pescara, nella prima parte della stagione 2015-2016, ma con una sola apparizione in Coppa Italia contro il sud di Tirola, allora guidato da Giovanni Stroppa. Tra gli obiettivi del DS Federico anche un difensore centrale e due esterni d'attacco in partenza di Dio e Montaperto.